Nessun migrante parte verso la Turchia a due giorni dall'applicazione dell'accordo raggiunto tra Unione Europea e Ancara. Le migliaia di domande d'asilo presentate alla Grecia hanno rallentato le operazioni e la prossima partenza è stata rimandata a venerdì. I campi di accoglienza nell'isola greca sono al collasso e circa 200 migranti trattenuti a Lesbo hanno protestato perché non vogliono essere rispediti in Turchia. L'Unione Europea e la Grecia stanno facendo qualcosa di davvero inquietante e illegale, sostiene il rappresentante di Human Rights Watch sull'isola. Stanno trattando i profughi come spazzatura umana da pulire via e questo è uno sviluppo tragico. E mentre a Lesbo si attende l'arrivo del Papa e del Patriarca Bartolomeo I, critici verso l'accordo tra Europa e Turchia, alla frontiera tra Grecia e Macedonia i profughi di domeni non arretrano. I bambini, figli della più grave crisi migratoria dal dopoguerra, sotto gli occhi delle telecamere, gettano fiori oltre le barricate.